ciao a tutti bentornati ancora una volta su indie gameplay italy oggi siamo su fractured un gioco più che altro una startup italiana che ha iniziato da poco l'alfa 2 è un gioco online è un mmo e come dicono gli sviluppatori un mmo dinamico intanto lo iniziamo così inizia vi vado anche a spiegare qua abbiamo il mio personaggio indie è un umano al momento c'è una razza soltanto da scegliere qua possiamo andare a creare uno nuovo magari lo vediamo dopo l'alfa durerà qualche giorno durerà un paio di settimane ed è partita il 20 di novembre qua sotto nel link nel link nella descrizione doveste poter comprare il gioco in varie versioni e aiutare contestualmente anche il canale ora vi mostro qua siamo su un server e qua vedete la mappa la mappa tra l'altro è molto bella questo gioco ha delle novità abbastanza interessanti rispetto ad altri mmo intanto va bene siamo partiti qui sono andato verso nord ovest questa cristal fa aggiunto delle location tra l'altro fa dell'esplorazione un punto forte perché allora perché esplorando avremo modo con non so pergamena e penna di marcare degli dei luoghi e quindi guadagnare esperienza quindi è un gioco strutturato in modo da non penalizzare chi ci gioca da mesi cioè chi ha appena iniziato rispetto a chi ci gioca da mesi e questa è una cosa molto bella è un gioco basato sulle abilità ed è un gioco basato stile action rpg infatti si combatte un po così alla po alla diablo insomma sto raccogliendo dei materiali poi vi vi mostrerò anche altro intanto vi inizio a far vedere il combat in alto a sinistra in alto a destra la mappa con l'ora del giorno in in alto a sinistra invece vedete la vita che è la barra rossa la una sorta di stamina che quella verde e quella blu è il mana al momento non da quanto capito non ci sono incantesimi verranno giunti nella nell'alfa successiva in si parla di circa 400 400 incantesimi per il momento l'abilità invece sono una quarantina adesso vi spiego anche come funziona intanto sto raccogliendo queste cose per un motivo ben preciso vedete che sulla mappa come notate quello lì è un dario wolf che non è proprio il massimo da combattere da soli bisognerebbe essere almeno in due qua vedete la casa di mr delrick perché ho avuto un codice anche per lui sta iniziando anche lui a costruire come me la casa vedete questi in alto a destra sulla mappa questi lotti diciamo gialli sono lotti liberi quindi quando create un nuovo personaggio in questi lotti c'è una rovina che potete reclamare una volta reclamata diventa la vostra casa iniziate a costruirlo inizia un processo piuttosto lungo dove andrete a tagliare alberi a colpire la pietra insomma con l'inventario è molto carino e rispetto a questo gioco è inevitabile che io lo dica mi ricorda un po' leggendo varia ma rispetto a leggendo varia non riprende quelle meccaniche un po' vetuste di ultimo line quindi l'inventario è come è dio comanda insomma non è niente di arcaico gioco in inglese lo dico subito perché magari è un po' adelleremo rispetto alla lingua il gioco è italiano ma è in inglese non si sa se verrà tradotto in italiano ma mettete in conto una cosa che questo potrebbe diciamo tagliarvi un po' le gambe ma se volete parlare con gli italiani questo sarà un gioco completamente internazionale e dato che il gioco avrà una forte componente social soprattutto per quanto riguarda la creazione di edifici infatti adesso al momento in questa alfa non c'è ma verrà implementata nelle prossime potremo andare ad amministrare città le città vedete che sono tutte case messe vicino i lotti preimpostati in modo da rendere tutto questo una volta che sarà tutto colonizzato una città gestita da utenti allora intanto io vado a prendere beh sto mangiando per curarmi un pochino mangio delle bacche non posso mangiare mangio della carne no anzi vi faccio vedere che davanti alla casa di mister dovrebbe esserci se non è stato distrutto ma probabilmente si è usurato il fuoco perché il fuoco è una componente molto importante perché col fuoco possiamo ridistribuire le nostre abilità adesso vi faccio vedere anche quello qua vedete che c'è un carretto che è suo noi possiamo prenderlo e muoverci con il carretto io stavo raccogliendo del delle erbe perché il mio carretto purtroppo ha avuto un piccolo incidente in pratica è rimasto bloccato all'interno del pavimento perché nel momento in cui ho costruito il pavimento il carretto l'avevo portato lì per trasportare le merci e quindi è finita lì vi faccio vedere una cosa rapidissima adesso vado ad abbattere un albero appena lo trovo così vi faccio vedere come funziona il rifornimento di materiali e poi diamo un'occhiata anche al al fuoco e al discorso del riposo il gioco dicevo è in alfa ed è disponibile in vari pacchetti che mi permetteranno di accedere il gioco finale quindi quando uscirà o alle alfa o direttamente invece dalla beta ovviamente il pacchetto quello che costa un po di di giocare tutte le fasi di gioco adesso dobbiamo trovare un albero anzi vi faccio inizio a farvi vedere come funziona invece la eccolo lì albero due alberi e la pietra allora in pratica fighissimo il fatto che comunque andate abbattete ho creato ovviamente gli utensili che mi servivano la pietra una volta presa ce la teniamo così e o camminiamo lentissimi o la buttiamo dentro il carretto adesso abbattiamo anche l'albero l'albero possiamo scegliere se abbatterlo o togliere le ramette foglie lo abbattiamo e perché la la linea ci serve non ha un ping perfettissimo questo questo server è un server unico a 100 di ping però non è un non è un fps quindi va va bene insomma non mi faccio trovi problemi possiamo zoomare e adesso vabbè abbattiamo anche questo lì c'è un altro tronco ma non riesco a prenderlo li sto prendendo così vi faccio vedere come prosegue la costruzione della casa nella casa poi potremo andare a piazzare il letto riposare insomma fare diverse cose e non vi sto facendo ancora vedere ne sono consapevole ma andremo a vedere a breve tutti questi menu sotto si parla di di crafting a livello di edifici a livello di tavoli una volta che avremo finito la casa potremo fare anche i tavoli quindi aumentare il nostro livello di crafting è un gioco che magari ho valutato male all'inizio che quando ho iniziato non ha molto poi in realtà andando proprio a vedere nello specifico il gioco si apre abbastanza e bisogna calcolare che questo gioco ha avuto ha avuto un ottimo kickstarter cioè di crowdfunding ha ottenuto i buoni risultati e quindi sta andando avanti stanno aggiungendo sempre più cose e quindi ora stiamo arrivando a casa vedete che qui c'è il carretto vecchio mio simbolo della ruota ma è incastrato il momento nel nel pavimento ci sta ci può capitare non è un problema infatti lo vedete la e non posso prenderlo perché nel momento in cui stavo depositando l'ultimo pezzo si è attivata diciamo la la produzione come questo caso vedete delle pareti quindi allora apriamo vedete che vado prendo il legno lo butto qui uno si poi è un credetemi per fare tutto quello che ho fatto fino adesso l'ho fatto gran parte senza carretto perché mister stava giocando con me e è dovuto portare tutto a mano intanto vedete stiamo costruendo il pezzo qua una volta che abbiamo finito vedete una volta che poi abbiamo completato ora vi faccio vedere vedete sotto le abilità sono le abilità di combattimento quando andiamo combattere e le vende per curarmi ce ne sono anche altri abbinati a dei tasti non numerici ma quelli della tastiera quert e dfg allora andiamo a vedere qui abbiamo anche col tasto c sia per questo meno abbiamo il nostro personaggio con tutto l'equipaggiamento le statistiche che sono questi che abbiamo detto in alto la forza destrezza percezione intelligenza carisma e costituzione sono parametri che determiniamo all'inizio e poi credo non si possono più modificare e poi modificatori andiamo a vedere il secondo menu che ovviamente è l'inventario con la percentuale di carica che abbiamo e da quanto visto non c'è deperimento dei dei cibi né degli attrezzi qua abbiamo il crafting il primo crafting guardate quanta roba c'è ed è solo l'inizio perché ovviamente poi potremo andare a fare i tavoli abbiamo possiamo fare la struttura della freccia la punta della freccia la punta addosso la punta di pietra fare i vari pezzi di vedete qua per fare il carretto mi serve il linen wave e per fare il linen wave mi serve il linen thread quindi vado a prendere con queste piante crafto 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 ne crafto 5 mi servono il pari 2 e poi vado a craftare questo poi si può fare anche la corda la corda mi serve il lino vedete tutto collegato la daga il pugnale insomma la lascia una mano il bastone la mazza il hammer per scavare la roccia e l'arco lungo tutto l'equipaggiamento diciamo a livello di armature il rimedio d'erba il pendente vabbè c'è un sacco di roba c'è un sacco di roba qua stiamo vedendo un po tutto poi ci sono vabbè le varie categorie quest'altro menu invece dove c'è la penna e il righello sono tutte quelle cose a livello di costruzione di edifici qua vedete che riscattando la rovina ho ottenuto anche una sorta di giardino perché tutto delimitato da questi paletti quindi qua io posso andare a costruire e posso fare il tavolo e tutti io voglio fare adesso un quadro bell rustico 3x3 che è questo perché quando reclamiamo ci viene dato questo terreno e possiamo mettere solo questa abbiamo la fence abbiamo diciamo i wooden chest quindi possiamo andare a piazzare i poi qua mi dice che non posso perché devo costruirlo solo nel mio terreno nel mio nella mia casa qua abbiamo la la chest di legno la chest di pelle la grande wooden chest il tavolo il campfire il campfire è molto figo perché adesso vi faccio vedere subito che cos'è lo possiamo piazzare vedete che lo piazziamo qui e ci servono delle rocce in questo caso ne abbiamo messe 7 dove andare per non e altre quindi ci mettiamo un po alla alla ricerca di altre tre rocce che dovrebbero essere comunque qui sul terreno c'è un coniglio coniglio si può uccidere ma allora vedete una e anche dei rametti ci servono quindi devo trovare una pianta una due small stone trovata subito adesso vi spiego anche un'altra cosa come sia prendono nuove abilità infatti qua adesso stavo per il dire wolf magari no allora vedete qua ci sono queste abilità abbiamo queste perché ce ne sono un sacco di altre che si possono andare a sbloccare c'è una quarantina a parte che possiamo mettere un preset quindi possiamo ogni volta che andiamo a riposare scegliere un preset diverso quindi adesso abbiamo queste e possiamo metterne altre quindi possiamo shiftare riposando da una all'altra in base a quello che vogliamo fare ma le abilità si apprendono non salendo di livello perché il salire di livello non c'è diciamo che si le abilità hanno ognuno modo unico di essere apprese che vanno dall'esplorare determinati luoghi precisi dal combattere con determinati nemici e soprattutto dal uccidere determinati nemici in determinati modi fare queste operazioni che sono comunque nascoste misteriose ci consentono di ottenere e sbloccare le abilità lo scopo dei degli sviluppatori è quello di non creare eccessivo divario tra la gente che gioca da una vita e la gente che appena iniziato diciamo che la differenza tra che appena iniziato e chi ci gioca da sempre da tanto insomma è questo uno mentre adesso probabilmente è forte come a me ha delle peculiarità diverse magari come punti abilità perché li ha messi in modo diversi ma io ho una casa e lui no e quindi li dovrà spendere un sacco di tempo per costruirsela e niente adesso appena vi faccio appena troviamo l'ultima pietra vi faccio vedere e sarà proprio punta tanto questo gioco sul sull'esplorazione quindi dovremo esplorare nuovi luoghi tenerne nota e appunto dicevo segnandoli su delle pergamene che ci porteremo in giro questi rimarranno segnati in modo permanente sulla mappa quindi il bello sarà proprio che ogni mappa ogni ogni giocatore scusate si fa il proprio percorso all'interno del gioco è una cosa innovativa anche se io devo fare una critica che al giorno d'oggi un ragionamento del tipo devi scoprire tu come ottenere le abilità esplorando è una cosa che è un po' snaturata perché con internet e tutto tutorial e vale varie è ormai uno sbassi legge la wiki e si spoilerà tutto e anche c'è anche da valutare il fatto che ormai la gente non ha più voglia di applicarsi allora vediamo un po abbiamo finito il fuoco lo montiamo se così si può dire e possiamo cucinare quindi possiamo andare vedete si apre tutto il menu del del crafting fare anche polvere cenare scusate unguenti posso fare la wolf meat e ormai la wolf meat così mangio ogni tanto vedete c'è lo stomaco e l'energia l'energia intesa diversa dalla stamina insomma tipo punti lavoro una cosa del genere comunque adesso possiamo mangiare la carne che qui vedete tasto destro la mangio è risalito il cibo e ora mi metto qui e posso dormire dormendo si rigenerà la parte con il col fulmine qui e potremmo andare in questo nuovo preset aggiungi nuove abilità non ho abilità e soprattutto vedete vuoi spendere punti conoscenza sì perché per sbloccarlo dobbiamo fare determinate cose avere abbastanza punti diciamo punti conoscenza eh sì direi che ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo preso con dei punti conoscenza che sono qua in basso con il knowledge point si poi io ho scelto il gladiator quindi posso aggiungere un'abilità io gli devo questa e gli aggiungo questa si può ok se il 6x7 si 6x7 perfetto memorize si può memorizzare memorize bene perché non ce l'ho lì no vabbè no 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 la volevo la volevo vabbè se io vado a fare un nuovo preset gli dico voglio questa voglio questa voglio questa 6 preset e basta fine quindi posso tornare a dormire si e me ne prendo un altro new preset memorize ok infatti infatti adesso la trascino 1 2 3 e ho un'abilità nuova che non so cosa faccia questa però c'era lì da sbloccare ce ne sono dicendo una quarantina allora il carretto qua vediamo se possiamo fare un tavolo adesso all'interno simple workbench si si può fare si doveva poter anche ruotare forse comunque vabbè mettiamo così che se ne frega voglio metterlo lì si può che non me lo metti no non me lo mette forse forse all'esterno comunque vabbè dovremmo andare ok mettilo qui me lo metti qui si ok vedete che crea due corde 8 wood log insomma è qua andremo a piazzare il tavolo da lavoro con cui potremo fare le cose allora non è sicuramente il gioco che vi terrà adesso in questa fase magari impegnati per 1500 ore perché ovviamente durerà poco la un paio di settimane durerà la quest'alfa 2 e al momento non ci sono ancora le le feature di costruzione delle città cioè di amministrazione delle città il gioco senz'altro permette bene soprattutto per il fatto che non è che clicchi e combatte da solo ma si combatte in modo action usando le abilità adesso io vorrei provare a usare questa abilità il problema è che non ho un'arma da taglio ma è solo questa un'arma perforante perché è una lancia quindi dovrò andare a farmi un'altra arma e al momento non c'è possibilità di fare parti con altre persone parti intendo gruppo e non si possono condividere la casa perché se no io e mister avremmo unito le forze avremmo fatto una casa unica quindi al momento ci sono ancora delle features non molto social cioè mancano più che altro le features social quindi quindi vedremo insomma questa è la catapecchia di mister ragazzi questo è tutto questo era Fractor MMO trovate il link qua sotto se tutto è andato bene insomma io sono riuscito a ottenere il link con il link lì sotto potete acquistare il gioco e aiutare contestualmente il canale fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao